Ok dimmi te... Ciancazione! Adesso cosa stai facendo? Adesso sto disossando un pollo adesso Bene Disossando un pollo Cosa tiri via inizialmente? Adesso sto tirando via le cosce di pollo Che poi le andremo a disossare oppure a tenerle intere E poi adesso si disossa da qui E appena si arriva qui Si tira il più possibile per staccare via Il più pollo possibile dalla carcassa Ecco qua Ok Andiamo a staccare le lette Si In modo semplicissimo Così seguendo la parte della snervatura no? Si dice così ma certo E poi adesso andiamo invece a staccare il petto Arriva subito Maui Andiamo a staccare il petto Sì ma ti dico questa cosa che vado a servire Andiamo a staccare Guarda E qua Qua c'è un ossicino che andiamo a rompere E poi proseguiamo così Semplicemente seguendo l'osso Ok Poi già così Adesso facciamo la stessa cosa dall'altra parte Che poi non lo dobbiamo per forza Staccare totalmente dal tutto l'osso Basta semplicemente Togliere un po' qua E poi semplicemente far tirare facendo leva Esattamente così Ok Poi con le carcasse la carotta ci farà il brodo Ciao a tutti Sale, pepe, olio Salve